Bentornati su MyFootballGersy. Oltre alle maglie da calcio, io ho un debole per quelle dell'NBA. Oggi torniamo appunto in NBA per vedere una riproduzione di una maglia del 96-97 dei Memphis Grizzly. La maglia Memphis Grizzly Swingman unisce elementi di molteplici divise, sempre legate alla storia della squadra. La maglia è di colore verde, con dettagli in rosso e blu navi. Un elegante motivo bianco e una banda rossa arricchiscono i bordi del collo e dei giro maniche. Stampa del nome della squadra e numero 12 sul davanti, nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Il modello è realizzato in mesh a doppia maglia e grazie alla tecnologia DryFit, la pelle resta fresca e asciutta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%. La maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Mi piace tantissimo il tessuto, mi piace tantissimo questa rifinitura che c'è nel colletto e nelle maniche. Una maglia che dovete avere se amate diciamo l'NBA. Il costo lo vedete qui sopra? Non voglio aggiungere altro se non dare spazio all'ovvio, un costo molto basso e conveniente. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora prima di lasciarvi alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.